niente siamo sempre in questo posto di merda a san rafael dove non c'è un cazzo dove c'è una chiesa di merda seppur carina è comunque una chiesa di merda dove c'è questa stazione di servizio vecchia dove ho pisciato dove c'è quel luogo lì in fronte qua dove ho aspettato in vano che qualcuno mi caricasse con l'autostop ma visto che qua la gente è merda ho detto vabbè sono le quattro vado a prendere il collettivo che passa e mi hanno detto tutti la quadra sbagliata quello è passato ovviamente non mi ha visto perché insomma stavo da un'altra parte a 100 metri ed è passato e quindi tocca dormire in questa città di merda che ripete san rafael è su un po' obbligo penso che siano non più di tre persone serie e qua c'è questo cartello ci siamo guardati tutto il tempo diceva il bellissimo zaino che si è preso il sole abbronzato e niente san miguel 55 chilometri san cuan 115 concepzione 256 non posso sapere che ci sta dove sta la pazza niente è proprio una merda vaffanculo di merda a tutte quelle persone a cui ho chiesto e mi hanno detto il posto sbagliato questo è dedicato a loro un vaffanculo grande 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 ciao da non si sa dove in bolivia est est della bolivia che è quasi nord-est o qualcosa del genere stessa se ci sono arrivati a nord-est